Selly cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Selly è una donna che non ha più voglia di fare la guerra e chissà quante battaglie invece ha fatto la nostra ospite che per alcuni è una paladina della giustizia, una sorta di Giovanna d'Arco che lotta contro il potere, per altri quelli che invece finiscono nel suo mirino è semplicemente una gran rompiscatole. Di certo lei è una giornalista, una professionista che ha cambiato i paradigmi del giornalismo e del giornalismo d'inchiesta. È davvero un piacere avere allo specchio questa sera Milena Gabanelli, buonasera e benvenuti. Dopo questa presentazione è tutta bella rotonda. Siamo passati da Giovanna d'Arco a Rupiscatole. No dai non sono né l'uno né l'altro che come si dice spesso nel paese dei ciechi un orbo ci vede benissimo. Eccoci. Questa è un po' più vera. Esatto, esatto. No mi spiace aver messo questa parola che sembra un po' però mi immagino facendo il suo lavoro che si sia trovata in condizioni anche difficili dove Rupiscatole era il men della storia. Uscendone con un epiteto rompiscatole era già poca cosa. Invece lei col suo fuoco, col suo ardore, che è una cosa che le è riconosciuto, non magari la Giovanna d'Arco... Attenzione, sono un segno d'aria. Un segno d'aria, un acquario? No. Purtroppo io so l'anno di nascita ma non posso dirlo per evidenti motivi. No, no, possiamo dirlo, non c'è problema. 1954, 9 giugno, quindi a Gemelli. A Nibbiano. Ma adesso Milena Gabanelli crede allo zodiaco, crede ai segni. No, nel senso stiamo... Sì. Beh, intanto la luna è una storia antica. Io ho provato a fare l'orto e a seminare in fase di luna calante, non è cresciuto granché e il giardiniere di fianco mi ha detto ma quando ha seminato? Ha seminato 15 giorni, bisogna seminare in luna crescente, se no non cresce niente. Quindi evidentemente... Qualcosa, beh la luna alza i mari. Quando uno dice che ha la luna storta, ci sarà un motivo. Ti luna che ti pare una formaggia, mi piasaria, grattate... È troppo. Qui siamo su Giannaci. Io no, quella è La luna è una lampadina. Sì, la luna è una lampadina, esatto. Quella è anche un grande pezzo. Giannaci ha cantato La luna. Ma perché parliamo di Giannaci? Non lo so, siamo partiti con Vasco Rossi che mi risulta essere, possiamo dirlo, amico di Milena Gabanelli o Milena Gabanelli è amica di Vasco Rossi. Come ne siete conosciuti? Tra l'altro ho avuto... Perché viviamo nella stessa città? Ho avuto anche una dritta. Mi hanno detto che al concerto Milena Gabanelli in primissima fila, come una teenager, Vasco Rossi si inchinava di fronte a Milena. È una cosa vera questa. Vabbè. Stavo dicendo che ci conosciamo da tanti anni, proprio da quando, agli anni 70, perché viviamo nella stessa città. Io sono andata a Bologna a fare l'università e ci siamo conosciuti là, frequentati più tardi, devo dire, perché a me all'inizio non piaceva granché. E musicalmente? Sì. Lui è sempre stata una figura talmente vera che non puoi non amarla. Però la sua musica non mi piaceva. Ha cominciato a piacermi quando sono andata a vederlo dal vivo in uno stadio. Lì ho capito la potenza carismatica di questo grandissimo musicista. Ma la musica conta tanto nella vita di Milena Gabanelli, al di là di queste amicizie puntuali. Moltissimo. È una colonna sonora. Senza colonna sonora non saprei neanche... Ha il potere di cambiarmi l'umore al mattino, per esempio. O anche alla sera. Mi piace lavorare con musica sotto. Mi piace viaggiare con la musica nelle orecchie. Ho un marito che fa il prof di musica nella scuola media, ha un gruppo. Ma io proprio no. Anzi, io sono sempre stata veramente repressa e inibita. Perché a me piace moltissimo cantare l'hai presa alta, l'hai presa bassa. No, non è quella nota lì. Cioè, è insupportabile. Mi piace cantare a squarciagola da sola dove non c'è nessuno che mi dice che ho preso la nota sbagliata. Capisci com'è? Certo. Questi sono temi seri. Sì, ma anche l'orto, che viene influenzato dalla luna, e non solo l'orto, gli ortaggi, ma proprio i funghi anche nei boschi. Qui, zona dei fungiatte, mi dicono che quando c'è la luna crescente il bottino è più ricco. Allora, è una infanzia, possiamo andare all'infanzia di Milena Gabanelli? È un'infanzia legata alla terra, la sua, che si ha studiato a Bologna, in una città, però è partita da Nibiano, provincia di Piacenza, in una casa contadina. Sì, che i miei hanno conservato fino a quando... Poi loro si sono trasferiti in Brianza, perché i ricordi della mia adolescenza sono proprio triste come la bassa Brianza. Da cui appunto sono fuggita per andare a Bologna e lì mi è parso. Poi la Bologna degli anni 70 era il sogno, no? Ed è il posto dove ho deciso di rimanere, nonostante abbia lavorato per 20 anni a Roma, nonostante ora lavori a Milano, e la mia famiglia d'origine continua ad abitare a Desio. Però ho scelto proprio quella città per la sua smodata allegria, grassa l'aide bottegaia, dicono, no? Quindi ha questo piacere del godereccio, pur essendo insomma gente, gran lavoratori e di grande generosità d'animo, anche se è molto cambiata nel forso degli anni. Però sono sedotta. Tornare a casa per me vuol dire tornare un po' lì. Godereccia a tavola a Bologna, ovviamente godereccia per la cultura, perché Milena Gabanelli ha studiato storia del cinema. Forse non è noto a tutti per una professionista che poi si è dedicata alla televisione, al linguaggio della televisione, interpretato anche con l'agilità del videogiornalismo. Il cinema perché questa scelta? Perché mi piaceva il cinema, perché il cinema fa veramente sognare, riempie le fantasie, riempie le prospettive. E questo mi ha sempre molto seduto, nello specifico poi tutta la parte del filone del cinema francese, perché mi sembrava molto vicino ai tormenti di quegli anni e anche della mia età, evidentemente. Infatti nella sua biografia, a proposito di cinema francese, c'è anche un nome che non è molto conosciuto. Non è il primo nome, per esempio, da che può venire in mente la nouvelle vague. Jean Eustache, e mi scuso per la mia pronuncia ginnasiale, e questo regista francese che tragicamente si è tolto la vita, si è sparato, se non sbaglio, nel 1981, in che modo comunque l'ha fatta sognare? Lei prima ha detto che il cinema è un sogno. Quali valori trasmetteva questo regista che poi hanno segnato proprio anche la sua carriera e il suo impegno? Era una sorta di stupore. io avevo conosciuto Jean Eustache perché avevo organizzato a Bologna una rassegna di cinema di Féron con Chantal Ackerman, Marguerite Duras e appunto Jean Eustache. Quindi era questo cinema molto vicino, ancora più in là della nouvelle vague, quasi un cinema verità. Nello specifico, il cinema di Jean Eustache mi piaceva questo stupore che riusciva a trasmettere e anche una grande trasgressione. Primo. Secondo, io ero molto attizzata dal fatto che lui aveva realizzato questo film che era considerato un cult nell'ambiente degli amanti del cinema de sé che era La mamma e la putain, che lui aveva ritirato dalle sale perché la moglie, dopo averlo visto, si era suicidata. Non è una storia di un macabro mai visto. Quindi, lui mi dà tutti i suoi film, io lo incontro a Parigi e lui mi dice benissimo, viene spedito tutto per valigia diplomatica. le quattro o cinque bobine di La mamma e la putain lui le aveva a casa. Quindi, qualcuno è andato a casa e le ha spedite per valigia diplomatica. Poi, una volta a Bologna, durante la proiezione, la serata della proiezione dove c'era la sala fitta così, io avevo 25 anni, allora 26 anni, comunque era la prima rassegna che io organizzavo in prima persona, lui decide che bisogna sbobinarlo, che nessuno deve vedere quel film perché altrimenti lui si suicida. Quindi, io chiamo l'ambasciata e la reazione dell'ambasciata è stata del tipo che è un soggetto problematico, non fatecelo suicidare all'estero, mettetevi d'accordo. Un cinismo. Ma soprattutto, nessuno ci credeva a tutto questo in quei momenti, E ti risparmio che cosa urlavano dalla sala? E vabbè, insomma, poi un paio di sere dopo decise comunque di passare questo film che comunque fu proiettato a Bologna e un po' di mesi dopo si suicidò lasciando un biglietto se non rispondo è perché sono morto. e io devo il mio inizio in realtà televisivo lo devo a lui perché con la cooperativa con cui lavoravo avevo avanzato dei soldi da quella rassegna ma tipo non lo so, cioè 600.000 lire. e allora ho deciso di girare un documentario che a distanza di tempo neanche io so cosa volevo dire cioè per dire quanto ero ed ho utilizzato come colonna sonora il suo ultimo intervento che lui poi di fatto ha concesso sulla morte del cinema e questa cosa andò a Venezia io cercavo di lavorare per la tv volevo fare televisione volevo fare documentarismo volevo fare quelle robe lì ma mi era inaccessibile all'epoca mi dicevano iscriviti al partito socialista e quindi io bussavo queste porte che non si aprivano mai giro questo documentario di 10 minuti a Venezia lo prendono per il festival di Venezia nella sezione officina ma mi dicono però devi mettercelo su supporto magnetico su cassetta perché per visionarlo ci serve il suo supporto erano i primi di agosto e Cinecittà era chiusa per fare questa lavorazione quindi mi dicono l'unico che può fare il telecinema è la RAI di Bologna perché ha il telecinema quindi a questo punto io sono arrivata lì mi sono proprio attaccata della serie devo fare e il direttore mi disse noi non possiamo fare lavorazioni private se però ci interessa organizzami una visione in cineteca che se ci interessa lo compriamo e poi facciamo il telecinema e ti prestiamo la cassetta quindi è andata no io sarò eternamente grata al direttore di RAI 3 regione di allora Fulvio Teiano che organizzava la Cineteca di Bologna la visione di questi dieci minuti di filmato che lui guardò facendo finta di capire perché secondo me non capiva lui come non capivo io nemmeno ora a distanza di anni e disse vabbè lo compriamo per non so 30.000 lire cioè calcolo non so come dire ci mettiamo 5 euro così ho la ho la giustificazione per farti il telecinema e darti questa possibilità di andare a Venezia perché mi stai facendo molta pena caso vuole che a Venezia non ci mi ha filato nessuno proprio ma Le Monde mi ha dedicato 30 righe io con queste 30 righe sono andata dal direttore dicendo guarda Le Monde mi ha citato e allora lì mi ha detto ma perché non proponi qualcosa per Rai 3 regione e io ho risposto veramente sono anni non so e lì ho cominciato e lì ha cominciato e quindi devo dire grazie a Jean Eustache ecco diventando poi una divulgatrice una teorizzatrice una sacerdotessa se vogliamo esagerare di un nuovo modo di fare esagerare però è vero questo è riconosciuto questo è agli atti sei gentile a dire che magari non è così però hai scaricato un po' un modo di fare il giornalismo pesante e sull'agilità anche con pochi mezzi finanziari facendo anche cose straordinarie sono dati in campo questi video giornalisti che realizzavano dei reportage poi legati insieme in studio e ti sei dedicata quasi da subito comunque non so se definirla il male della società ma delle pagine oscure comunque della nostra attualità della nostra epoca della nostra società io potrei citare la mafia giapponese oppure i reni che venivano venduti nel Tamil nel Tamil oppure le deformazioni come conseguenza dei test nucleari e poi i servizi segreti le eco-mafie perché Milena tu sei stata attratta da questo pozzo nero della storia da questi episodi da questi capitoli in realtà io non sono stata attratta da questi capitoli io ero molto attratta dal cosa c'è fuori dal mio cortile infatti io quando ho iniziato con Mixer nel mondo il mio primo reportage fu sulle zone economiche speciali Cina 1988-1989 quindi ho visto l'inizio di quella trasformazione poi l'isola degli ammutinati del Bounty Vietnam Cambogia insomma questi luoghi di cui mi piaceva racconoscere e raccontare ok quindi questa era la mia vera passione e finalmente sono approdata nel luogo in cui era possibile raccontare questo poi succede un fatto che si stringono i cordoni cioè questi lavori interessantissimi in giro per il mondo con Troop grazie e no i collaboratori esterni è finita la storia io avevo appena cominciato cioè mi sembrava una roba e nello stesso periodo è uscita l'i8 che avendo una maggiore definizione la qualità era considerata trasmettibile una camera esattamente una piccola videocamera allora io ho cominciato a lavorare da sola perché in questo modo si abbattevano i costi io potevo continuare a fare questo però attenzione che cosa era richiesto per giustificare l'utilizzo di un mezzo dove tu ti vedi inquadrato da solo sempre un po' sfocato un po' traballato dovevi avere un grande contenuto di immagine o di contesto allora la storia è nata il passaggio dalla troupe al video giornalismo cioè il giornalista da solo con la sua telecamera è avvenuto nella ex Jugoslavia perché io lì dovevo trovare a Belgrado la troupe non c'era fortunatamente avevo portato con me la videocamera e quindi ho fatto da sola e da lì ho detto va bene basta così mettendo poi magari in cantina però dovevo però dovevo ovviamente avere situazioni che giustificassero l'utilizzo di quel mezzo e allora da lì poi ho fatto per anni le zone di conflitto la Cecilia la Somalia Milena le guerre fanno schifo dappertutto tale quale tale quale il problema appunto che nelle guerre l'uomo perde la sua dignità quello che lo caratterizza tanto che infatti Primo Levi si poneva al dubbio si poneva al dubbio era una constatazione se questo è un uomo tanto la vittima quanto il carnifice però tu che sei stata in queste zone di buio e che l'hai raccontata e che l'hai raccontata con quel tuo particolarissimo io so che la prima volta che mi sono trovata in una situazione così di frontiera senza saperlo tra l'altro perché io pensavo che di lì fossero già passati tutti i cronisti in realtà non era vero perché ero la sola dentro Vukovar in quelle giornate perché ero con i miliziani quando al mio ritorno io ho avuto un ricovero per dimagrimento improvviso non è così ovvio trovarti per la prima volta nella vita davanti a una macelleria proprio una macelleria poi ci fai l'abitudine tant'è che io le prime volte cercavo di guardare nella loop con tutti e due gli occhi per non vedere bene la volta successiva invece mettevo a fuoco anche il dettaglio della mano mozzata cioè si fa l'abitudine a tutto la reazione primaria la reazione della prima volta è quella più vera cioè quella che ti fa rifiutare l'esistenza di 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 questa barbarie che poi in fin dei conti in quel buio però c'è anche della luce tu sei stata anche testimone di bellezza oltre che di orrore no io questo non credo io non credo di essere stata testimone di bellezza di alcunché sono stata testimone di orrori che ho cercato di raccontare atti di grande umanità io per bellezza non vorrei essere equivocato atti di profonda umanità proprio laddove l'umanità viene meno non sono una filosofa o una sociologa io non so dirti certo non c'è dubbio che in una situazione in situazioni dove manca tutto sono tutti uniti per aiutarsi cose che in altre situazioni però non possiamo pensare la guerra è orrore comunque la guardi dovunque la guardi e per l'eredità che lascia e e per tutto quello che sottrae diciamo che per tornare al mio percorso professionale da lì in poi ho pensato che farai rischiare la pelle per raccontare storie che poi interessano a pochissimi in realtà perché specialmente all'epoca o il conflitto è il grande conflitto in cui l'Italia è coinvolta altrimenti come sempre a seconda della distanza e e allora ho pensato che valeva forse valeva la pena di cominciare a a parlare un po' dei disastri di casa nostra e ho trovato colleghi e di materiale ce n'era colleghi che soffrivano di patologia compatibile con la mia e così è partita poi l'avventura di report di report che è durata dal 97 al 2016 comunque sono stati per me è 20 anni 20 anni assolutamente poi ovviamente io adesso non ti chiedo perché hai lasciato la RAI sono cose se abbiamo letto o riletto però vorrei chiederti invece rimanendo un po' sulle immagini che tu hai visto e hai prodotto esistono delle immagini che non hanno una valenza politica questo lo sosteneva Enrico Gezzi dice il geniale creatore di blob ogni immagine ha una valenza politica figuriamoci allora le inchieste che poi vanno a trattare anche temi politici cioè tu anche con le migliori intenzioni ti sei mai sentita coinvolta politicamente hai mai favorito oppure hai ostracizzato delle fazioni politiche anche non volendolo alla fine tu hai fatto un po' di politica beh per forza cioè nel momento in cui attacchi Berlusconi e le sue ville ad Antigua è certo che è evidente che sei già collocato come antagonista come antagonista politico cioè diciamo che disorienti un po' nel momento in cui decidi di andare a guardare cosa c'è dietro la cortina di Antonio Di Pietro allora lì lì c'è un disorientamento perché uno dice ma come ma voi non eravate di ma voi non siete quelli di Rai 3 di Rai 3 i comunisti di Rai 3 adesso andate a fare il mazzo a Di Pietro c'è qualcosa che non torna così come quando siamo andati a guardare dentro al Movimento 5 Stelle poche settimane dopo che loro mi avevano indicato come Presidente come Presidente della Repubblica ti hanno proposto in quel senso addirittura c'è chi appunto pensa Milena Gabanelli come una maître pensée che orrore che orrore alla fine ecco cosa ti ha fatto sorridere questa proposta la Presidenza della Repubblica non mi ha fatto sorridere mi ha imbarazzato come non mai sono state le 24 ore più imbarazzanti vabbè comunque quello è un aneddoto un episodio che possiamo anche archiviare con un sorriso ma il fatto di godere di popolarità alta perché Report ti ha dato una grandissima popolarità e non solo già Professione Reporter prima Professione Reporter prima ti ha mai indotta a dati di vanità la popolarità e quest'annomea di paladine della giustizia ma se tu chiedi a uno scusa ma tu sei qui è uno studio pieno di specchi e lo specchio è l'oggetto della vanità non solo femminile ovviamente anche maschile ma tu hai mai chiesto a uno scusa ma sei un po' vanitoso e questo ti dice sì un sacco vanitoso c'è chi risponde di sì addirittura anche dei preti è consapevole di essere vanitoso sì sì beh lo so no vabbè ma lo si può no io penso di avere un'infinità di difetti ma la vanità mi sta talmente sulle scatole che è proprio l'idea di poter assomigliare a qualcuno di vanitoso ti fa orrore no mi fa andare nella direzione opposta che poi come sempre gli opposti cioè non stanno in piedi no cioè proprio ha un eccesso magari di di autosminuire di sminuire un po' quello che faccio proprio per non sembrare per non correre il rischio di sembrare vanitosa no ma certo poi tu non sei una donna mondana che va nei posti dove si conosce gente no no non è anche l'abbigliamento adatto poi tra l'altro non mi manca vabbè comunque io sperando di essermi un po' ingraziata alla fiducia di Milena Gabanelli vorrei portarla in quel territorio dove lei di solito tiene tutti fuori almeno i giornalisti che è un po' la vita privata abbiamo già detto insomma che tuo marito è stato un docente di musica delle scuole medie la figlia è laureata in giurisprudenza se non sbaglio lavora a Bruxelles e quindi vorrei chiederti è possibile sembra evidente avere questo ruolo di giornalista d'assalto e anche di donna di famiglia passami questo termine ma tu hai mai hai avuto colpa di aver lasciato tua figlia per andare nelle zone di guerra ripensandoci adesso ne abbiamo parlato anche di recente io pensavo che eri a Roma e poi il papà invece mi ha detto che eri a Grosni e ripensandoci adesso insomma c'è un'età per tutto e quindi a quell'età ho pensato che si potesse fare ed era qualcosa di condiviso in famiglia cioè io e mio marito ci intendiamo cioè non è che c'è stato conflitto su questo c'è sempre un voler assecondare le passioni e come io ho sempre cercato di assecondare le passioni di mia figlia quindi quello che ho fatto all'epoca mi pareva giusto farlo certo non stavo in giro un quarto d'ora in più del necessario questo si è chiaro come ho conciliato non lo so magari un giorno lo pagherò carissimo questo fatto però è diventata grande senza diventare una tossica e quindi penso di aver superato la prova più grave io mi spingo proprio nel gossip più rosa una rarissima intervista di tuo marito dice di amanti non parliamo no non parliamo di amanti perché se non confessa la vanità figuriamoci se confessa un amante però il suo marito dice siamo stati assieme non ho mai avuto il tempo in realtà non gli dice siamo stati assieme 40 anni 45 non so quanti anni di matrimonio perché io sono io e perché lei è lei cosa vuol dire chi l'ha detto tuo marito in una rarissima intervista concessa sempre che non sia una fake news allora ti racconto la storia di quell'intervista risale sempre il giorno in cui presidenza della repubblica io chiudo i contatti con tutto il mondo una di mi pare fosse vanity fair riesce a rintracciare mio marito dicendo sono l'amica del tuo droghiere benissimo lui non sa cos'è vanity fair pensa che sia un giornalino di quartiere e lui racconta a domanda risponde 15 giorni dopo esce questa intervista di cui io non sapevo assolutamente nulla titolo di Dago Spia la Gabanelli per 30 anni ha tenuto blindata la sua vita privata ci pensa il marito a spiattellarla e quel giorno insomma sia io che mia figlia gliene abbiamo dette di ogni e lui ci ha mandato quel detto ma in fin dei conti che cosa ho detto mandate a quel paese papà sei diventato matto io sono andata un po' più in là devo dire con l'aggettivo comunque io sono io lui e lui cioè certo siamo due persone decisamente molto diverse però le diversità a volte si combinano come il dolce amaro assolutamente noi siamo arrivati alla conclusione tu che sei una professionista i tempi li dovi rispettare televisivamente mi perdonerai se la chiudo anch'io qui con un biscottino cinese ci sarà la sola lì dentro ci sarà la sola ma chissà guarda devi scegliere tu lo spezzi purtroppo è scritto molto in piccolo però vedo che hai gli occhiali e io devo toglierli però per leggerli allora get ready good fortune ma no dall'altra parte se allarghi la tua cerchia sociale ne trarrai vantaggio quindi più mondanità per Milena Gabanelli allora adesso dove vai a cena stasera grazie Milena Gabanelli per essere stata in nostra compagnia davvero grazie grazie a voi e grazie anche a voi per essere stati in nostra ma soprattutto in sua compagnia ci rivediamo la settimana prossima lo sapete dopo il quotidiano prima del telegiornale con lo specchio con un altro ospite buona serata lo specchio con Tamborini Vini catalogo regali di Natale per aziende e privati Tamborini Vini una storia di famiglia dal 1944 1944 membri